DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, manocalzati nei pressi di Avellino Est. Secondo molti indicatori, da quest'anno e soprattutto dal prossimo, segneremo delle distanze anche significative dalla crisi che ci ha accompagnato a partire dal 2008 e che ha colpito, come sappiamo, duramente l'economia, il mondo delle imprese, i redditi delle famiglie. Insomma, va meglio, potrebbe andare meglio se nel frattempo non avessimo accumulato un arretrato storico, diciamo così, reso ancora più pesante da quanto è accaduto, soprattutto a cominciare dal 2008. Stasera parleremo di economia e lavoro, di aziende e imprenditori, di come questi insieme alle parti sociali in questa fase di mezz'estate guardano in termini di consuntivo a quanto è accaduto nei mesi trascorsi e in termini anche di bilancio preventivo rispetto a quanto è lecito realisticamente aspettarsi. Bentrovati a tempo reale, benvenuto a Gino Pedata, che guida la Soft Technology. Buonasera a Giuseppe Zaolino, segretario generale della Fismic. Buonasera a Carmine Marinelli, del gruppo omonimo, gruppo Marinelli, un gruppo storico di imprenditori della nostra provincia. Allora, da dove partiamo? Io partirei da un telegramma con Gino Pedata, poi parleremo anche delle vostre aziende perché le caratteristiche della Soft Technology e del gruppo Marinelli indicano una direzione dentro la quale le aziende che possono guardare con un qualche ottimismo al futuro e che intanto hanno superato questi anni difficili devono fare per poter incrociare appunto quelle che sono le aspettative non solo aziendali ma anche il contributo che queste aziende danno all'economia, al lavoro in provincia di Avellino. Quindi, Gino Pedata, che anno è stato? È davvero, come leggiamo sui giornali, che va un po' meglio? Ma sicuramente gli anni trascorsi sono stati abbastanza difficili. Quest'anno qualche segnale positivo sta arrivando all'economia in generale se guardiamo non solo ed esclusivamente la provincia di Avellino. Cioè, in Italia qualcosa si muove, il segnale di ottimismo che è arrivato dalle aziende e dalla crescita del PIL sicuramente può essere interessante incentivare l'impresa a continuare a investire nel Paese Italia. È chiaro che la crisi ci ha dato un insegnamento fondamentale che nulla più è acquisito, che tutto cambia in modo repentino in un mercato fortemente globalizzato e quindi c'è la necessità che noi abbiamo coniato in un termine che è imparare, disimparare, imparare. Cioè, cosa significa? Noi dobbiamo imparare un prodotto, un servizio, dobbiamo abituarci, ci dobbiamo disimparare a questo prodotto, dobbiamo rimpararne uno nuovo. Questo è il segnale che per tutte le aziende Italia oggi è fondamentale, dall'automotive al lavoro che fa il gruppo Marinelli a tutto quello che è il mercato economico. Ecco, Carmine Marinelli, un altro segnale, non lo so se è un segnale, come dire, attendibile, ma insomma, quando siamo in questa fase dell'anno, in mezzo estate, vicini alla chiusura di agosto, insomma, prima si chiude, forse peggio è per la situazione generale, più si allunga, diciamo così, il lavoro durante l'estate, meglio sarebbe. Come stiamo messi? Lei, per esempio, chiuderà prima o dopo? La verità è che ormai sono anni che le ferie estive per noi sono diventate una regola ed è questa una cosa, purtroppo, un triste primato. In realtà noi per anni, soprattutto nel settore dell'edilizia, il fermo rappresentava una settimana, ma proprio al massimo una settimana. Oggi invece, in realtà, tutti quanti programmiamo le ferie perché l'economia non c'è, ma questo vale soprattutto nella provincia di Avellino, perché noi lavoriamo su tutto il territorio della regione Campania e in realtà della programmazione abbastanza concreta, consistente, in altre zone, tipo Salerno, tipo Napoli, è molto più corposa. Ad Avellino, in realtà, il settore edile sta passando, insomma, un periodo veramente molto triste, forse uno dei peggiori negli ultimi 20 anni, anche perché la verità è che noi siamo stati abituati in Irpini a costruire molto all'indomani del terremoto, si sono fatte diverse opere infrastrutturali, sia pubbliche che private. Oggi, in realtà, c'è un collasso rispetto a questa situazione, quindi lo dimostrano le imprese presenti sul territorio. Oggi sono veramente, si contano sulle dite di una mano, quindi soltanto chi è che si è spostato nel settore pubblico che abbia allargato i propri confini territoriali, che riesce a sopravvivere, ma in realtà che è rimasto confinato nella provincia di Avellino, le ferie non è che arrivano ad agosto, le ferie arrivano il primo gennaio e finiscono il 30 dicembre. Lei sta confermando le cose che ha più riprese in diverse occasioni, per esempio per stare al settore delle infrastrutture, dei lavori pubblici, dell'edilizia, ha detto qui il presidente dei costruttori Scognamillo, Pino Scognamillo. Zaolino, ancora in questa fase preliminare della fotografia, diciamo così, come si chiude questo anno in provincia di Avellino, falcidiata in questi anni la chiusura di decine e decine di aziende. Poi parleremo di due parole chiave, che sia Soft Technology che il gruppo Marinelli hanno interpretato al meglio, cioè l'innovazione e la diversificazione, che sono due parole molto importanti dentro il discorso che faceva proprio Gino Pedata, cioè di guardare sempre oltre il prodotto che si è appena conquistato. Zaolino, come stiamo messi? Ma se parliamo del sistema industriale, ci sono dei dati nuovi e confortanti, dopo otto anni di crisi feroce, perché i grandi numeri ci dicono che abbiamo perso almeno il 25% della capacità produttiva in questa provincia. Fermo restando che il sistema industriale rappresenta ancora il 46% del PIL. I segnali quali sono? Le grandi aziende sono ormai fuori dal tunnel della crisi, parliamo dei 1800 che lavorano tutti i giorni in FMA, della EMA di Morra de Santis che continua ad assumere e ha superato da poco i 600 addetti, della Denso di Piano d'Ardine che ha superato i 1000 addetti. Intorno a questo tessuto adesso sta riaprendo Industria Italiana Autobus, 100 persone che sono stati presi dopo sei anni di crisi dalla strada e rimessi a lavorare. Cioè c'è un sistema in movimento, ovviamente io sono d'accordo con i due amici imprenditori, qui veniamo da anni complicatissimi e guardiamo nella realtà con un po' di scetticismo, ma anche con tanta voglia di cimentarsi e qui io credo il sindacato che noi rappresentiamo, la Fiesmi, c'è il livello di partecipazione del sindacato per fare squadra con gli imprenditori e i livelli istituzionali che funzionano, quella è la chiave per fare insieme un salto in avanti senza accapigliarci tra le parti sociali, perché l'obiettivo è di far crescere il sistema imprenditoriale e di far crescere una ricchezza per chiedere poi che un pezzo di quella ricchezza possa ritornare nelle buste paghe dei lavoratori e far riprendere l'economia. Su questo torneremo tra poco. Intanto c'è un'altra fotografia che ha consegnato ieri l'altro Confindustria, che è una fotografia in chiaro e scuro, in bianco e nero. In Campania 478 mila sono le imprese attive, si registrano nel primo trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 56 mila occupati in più, ma resta troppo basso il tasso di occupazione, fermo al 44,9-45%. Sono questi i numeri che se confermano segnali di ripresa dell'economia, in particolare delle imprese industriali, ci dice anche che permangono criticità, sia pure al cospetto di un tessuto produttivo in movimento. Ecco, io parlerei con Gino Pedata di Soft Technology, assumendola come esempio, diciamo così, un po' Gino ci accennava il suo modo di porsi, il suo modo di fare imprese. Tra l'altro la Soft Technology ha ricevuto proprio di recente, leggo da un documento, un riconoscimento importante persino in Vietnam, questo la dice lunga, diciamo così, sui confini che vanno superati. Sicuramente per noi è un orgoglio che dall'Irpinia siamo stati premiati in Vietnam come la prima azienda d'Italia per vendita di sistemi di stampa della Sharp. E' chiaro che tutto questo nasce da un modo di... Voi fornite soprattutto servizi più che... Noi diamo, guardiamo l'Office Automation a 360 gradi, noi realizziamo il chiave in mano, quindi funzioniamo anche da general contractor, quindi da tutto quello che è l'ufficio in generale, dando come opportunità il noleggio. Cioè noi siamo partiti proprio dalla crisi del 2009, forse da qualche anno prima, perché con la lungimiranza abbiamo iniziato a fare noleggio dal 1998. Cioè noi abbiamo detto, in un momento in cui il cliente ha bisogno dei servizi, l'economia ristagna, cosa dobbiamo fare per lavorare in sinergia con un parco di clienti acquisiti o di clienti nuovi? Dobbiamo affiancare il cliente in quello che sono le sue problematiche del servizio in generale, di cui ha bisogno, ma anche dal punto di vista finanziario. Cioè noi siamo una delle poche aziende d'Italia che dà il prodotto in noleggio con mezzi propri, cioè senza passare attraverso terzi, attraverso le finanziarie, e quindi che non vanno a inficiare quello che è il rating dell'impresa stessa. Siete come Mr. Wolf, risolvete i problemi. No, ma tanto è vero che proprio quando è partita la crisi più pesante nel 2009, mentre noleggiavamo solo prodotti individuabili come beni strumentali e informatici, siamo partiti con noleggio anche dell'arredamento, proprio perché se uno doveva aprire un ufficio, non aveva la capacità economica, non gli abbiamo dato la possibilità di farlo. Questo perché riteniamo che il lavoro va generato, va creato, sia dall'imprenditore, sia dalla politica in questo momento è abbastanza assente, ma anche dal professionista. Cioè oggi bisogna crearsi il lavoro, non aspettare che questo lavoro ci cada dal cielo e con la sagacia sicuramente si possono ottenere dei risultati. Ecco, il gruppo Marinelli, Carmine, abbiamo detto un gruppo storico dell'imprenditoria irpina, nasce negli anni 70 come società di trasporti, si poi comincia a diversificare edilizia, costruzioni, infrastrutture, anche più recentemente diversificazione nel settore alberghiero, avete anche un grande albergo molto noto a Dubrovnik, oltre ad avere il famoso Lloyd's Bay Hotel di Salerno. Insomma, da questo punto di vista, qual è stato il passaggio più difficile nel dover diversificare questo gruppo storico? Ma guardi, diversificare per noi è significato allargare i propri orizzonti, ma soprattutto porre delle basi che ci consentono di stare un po' più tranquilli, nel senso che il settore dell'edilizia è un settore molto particolare, non solo in Irpinia, ma chiaramente questo vale anche nel settore pubblico. Noi abbiamo delle regole e delle norme che ci mettono sempre a dura prova, non esistono mai delle certezze. Noi a Salerno in questo momento stiamo realizzando una galleria a Porta Ovest, un'opera importante che è un'opera di 140 milioni di euro, che doveva significare ricchezza, lavoro, tranquillità per molti aspetti. In realtà si è trasformata invece in un vero e proprio problema, perché? Perché l'opera si è fermata per diverse motivi, per diverse situazioni e oggi l'opera è ferma. Questo è proprio... Insomma, il calvario esiste. Il calvario esiste. Poi parleremo un attimo della burocrazia e di altri elementi che... Quindi non è sempre... Anche allargare i propri confini nel settore dell'edilizia non significa avere tranquillità. Da qui nasce l'esigenza di diversificare, di diversificare in settori dove ti è consentito l'approccio, perché non è semplice cambiare settore o allargare i propri obiettivi senza sbagliare. Uno deve imparare un mestiere, ti puoi affiancare di migliori professionisti, ma è sempre l'imprenditore che fa delle scelte e le deve fare senza conoscere a che cosa va incontro. Il settore del turismo chiaramente ha rappresentato un modo per appassionarsi a questo settore, molto interessante, l'abbiamo fatto anche a Dubrovnik, in una nazione molto lontana, insomma, dove abbiamo dovuto imparare. il modo di ragionare, che per noi andare in un'azione come la Croazia significava noi italiani siamo sempre un po' molto presuntuosi, pensiamo sempre di essere i migliori del mondo. Facciamo i buffoncelli. Mentre invece arriviamo lì e abbiamo compreso che in realtà loro sanno fare il turismo e in una città come Dubrovnik oggi ci sono 150 alberghi. Dubrovnik è una grande perla. È una grande perla che però loro hanno saputo vendere al mondo. Nonostante la guerra, oggi ci sono 150 strutture alberghiere che lavorano, producono, stanno tutte quando al 95% di occupazione. E quindi noi ci siamo inseriti in questo contesto dove siamo stati innanzitutto non accettati subito bene. Quindi la prima cosa, noi italiani come al solito, non è che ci presentiamo le nostre credenziali, non sono le migliori. Però una volta che poi hanno compreso la serietà dell'imprenditore, diciamo che oggi, ormai sono 15 anni che stiamo lì, e abbiamo uno strumento. Questo ha comportato che poi, visto l'esperienza della Croazia e anche lungo la costa abbiamo un altro albergo, poi ci siamo chiaramente interessati dell'Italia perché l'Italia dovrebbe essere una nazione che dovrebbe vivere di turismo. Molto spesso i nostri politici lo pubblicizzano, cercano di mettere nei loro programmi politici sempre la voce turistica. Non manca mai, non manca mai. Però puntualmente noi in Irpina abbiamo un'esperienza, noi in Irpina abbiamo delle bellissime zone, bellissime montagne, bellissime cose, ma in realtà di turismo ne rimane soltanto veramente la parola. Quanto lavoro date come gruppo Marinelli complessivamente? Ma guardi, noi oggi in Italia, quindi in Regione Campania, tra le varie aziende che si interessano di turismo, edilizia, cave, industrie estrative, quindi calcestruzze, e conglomerati biduminosi, ma circa 400 persone lavorano con noi a tempo indeterminato. Sono numeri significativi, credo che Soft Technology abbia numeri più bassi, ma è in relazione naturalmente all'attività e al business evidentemente. Noi abbiamo complessivamente 35 persone. Poi abbiamo i commerciali che lavorano invece a partita IVA. Zavolino, quando parliamo di innovazione, è inutile precisare, non significa un'alzata d'ingegno, una bella pensata. Innovazione significa qualcosa che viene fuori da un investimento che un'azienda fa in ricerca. Ecco, a parte, diciamo così, anche contributi, finanziamenti pubblici che vanno nella direzione della ricerca, ne abbiamo parlato diverse volte, nei mesi scorsi e nelle ultime settimane, per esempio con l'assessore dell'attività produttiva della regione Campania, Medevole Lepore. Ma insomma, i grandi gruppi probabilmente hanno meno difficoltà a fare innovazione, cioè a investire in ricerca. I gruppi medi e i gruppi piccoli invece qualche difficoltà ce l'hanno. E sappiamo che la parola innovazione è programmatica per stare su questo tipo di mercato così volubile, così globale, così ampio, così soggetto a tempeste anche perfette, cicliche, momentanee, improvvise e quant'altro. Sì, questo è l'elemento che ha fatto la differenza tra chi ha affrontato la crisi con successo e chi invece è stato investito ed è stato costretto a chiudere. Noi abbiamo perso alcune aziende metalmeccaniche perché facevano condo terzi, lavorazioni a basso valore aggiunto ed è ovvio che con l'arrivo di tutta la parte industriale del Nord Africa, che ovviamente ha fatto una concorrenza anche sull'automotive e non solo, fare concorrenza solo su bassi salari noi siamo perdenti. L'innovazione però è stato un elemento che ha fatto crescere anche e soprattutto le grandi aziende perché la Denso si è arrivata oggi a superare i mille dipendenti e perché è stata anche beneficiaria di 52 milioni di euro che hanno fatto la differenza in Europa per orientare la produzione di nuovi climatizzatori della Toyota perché Denso è gruppo Toyota non più nei paesi dell'est si parlava di Polonia ma hanno investito in Italia e a piano d'artine. E questo ha fatto la differenza. Parleremo un attimo, insomma, sì, innovazioni e poi ci sono invece condizioni di partenza che dovrebbero essere assicurati penso alla banda larga per esempio noi abbiamo ancora seri problemi grandi difficoltà o penso alle traversie che il mio amico Aquilino Villano con la OMI di Lacedonia sta passando da circa 25 anni perché c'ha una frana sullo stabilimento di Lacedonia che gli piove addosso ha aperto un altro stabilimento che non può aprire perché ci sono dei problemi e questo imprenditore autorevolissimo come gli ospiti di stasera e come tanti altri che abbiamo in questa provincia che lavorano nel mondo non in provincia di Avellino soltanto in Campania ebbè sono costretti a mettere in solidarietà quelli che lavorano nel primo stabilimento con la frana insomma torneremo su questo perché io penso che insomma poi ognuno deve fare la sua parte ma insomma possibilmente non dico fin in fondo ma per gran parte ognuno deve svolgerla perché altrimenti non se ne è il caso della OMI è eclatante so che Aquilino Villano tra l'altro proprio in questi giorni è in Russia per presentare alcune una fiera internazionale del settore aeronautico però è uno che non si arrende no no Aquilino tanto tutto sta dimostrando quella capacità per uscire dalla crisi immagino lo vorrei chiedere sia a Carmine che a Gino insomma qualche volta uno si scoraggia insomma perde pure le staffe è vero Gino eccomi qual è l'incidente più frequente che ve le fa perdere le staffe di cose che non dipendono da voi e che altri dovrebbero assicurare e garantire ma in Italia il primo blocco nasce dalla burocrazia e devi pensare che qui quando nasce l'imprenditore che piccolo o grande che sia nei momenti in cui decide di fare impresa nei momenti in cui apre teoricamente ha finito il suo capitale di rischio perché per i rivoli in cui si i vari ammennicoli di tassazione che ci stanno nello Stato italiano fanno sì che la piccola impresa appena parte già ha finito il suo capitale il capitale di base quindi è chiaro che poi c'ha tutti i fermi burocratici che allungano i tempi di apertura che fanno sì che ci stanno in altri paesi in sette giorni si apre l'azienda cioè pensate cosa succede in Irlanda qui l'ha detto anche un mesetto fa il presidente De Luca della regione Campania a inizio settembre per aprire un'azienda in Campania ci vorranno vedremo ci vorranno 15 giorni non di più tutti mi dicono vedremo nessuno è disponibile nonostante io credo i buoni propositi di De Luca ma nessuno è disponibile a mettere la mano sul fuoco Carmine Marinelli ci accennava un po' quali sono i problemi che ti cadono sulla testa di un'impresa importante come il gruppo Marinelli ti aggiudichi un lavoro di 120 milioni naturalmente è un lavoro significativo ti organizzi poi si ferma e si ferma e non dipende da te perché si è fermato insomma da questo punto di vista si può cadere anche nella prostrazione oltre che nell'avvilimento arrabbiatissimo immagino il problema è che questo è vero però non hai il tempo perché non siamai ti fermi un momento manca il tempo per arrabbiarsi manca il tempo di arrivare perché ti devi dare subito e questa è una buona cosa da questo punto di vista perché hai degli impegni così gravosi così importanti che uno passa appresso insomma no non è che passi appresso devi analizzare devi fare la strategia per superare il momento anche perché oggi noi abbiamo un fatto nuovo che penso che riguarda un po' tutti i settori dell'imprenditoria noi abbiamo le banche che non ci supportano più quindi oggi questo è un altro elemento che è diventato importante e in provincia di Avellino ritengo che è ancora più grave questa cosa perché le banche che operano sul territorio probabilmente negli anni addietro hanno avuto molte sorprese soprattutto nel settore edile e quindi noi oggi abbiamo un altro elemento di negatività che di fronte a delle problematiche tipo la galleria Porta Ovest di Salerno che è un'azienda c'è un'autorità portuale che sta cercando di risolvere e affrontare il problema noi abbiamo il problema che le banche non ci credono cioè oggi sono talmente scottate dalle mille cose che si sono verificate negli ultimi 20 anni che oggi le banche non ti supportano questo è un elemento in più che significa che non ti puoi distrarre e ti devi dare da fare anche in parallelo una grande io credo polemica ma credo anche che abbia degli elementi di giustificazione insomma in questi anni le banche sono state pompate molto dall'Europa dalla Banca Centrale Europea per mantenere appunto un asset quello bancario decisivo per un paese vero è che si scottano se pensano a come funzionano spesso i lavori pubblici in Italia però questo è vero però noi abbiamo un elemento ancora più grave noi avevamo delle banche che rappresentavano il territorio e questo non era un dettaglio perché la banca che rappresentava il territorio era parte integrante quindi conosceva perfettamente quello che era la realtà il politico del posto si doveva argomentare doveva trovare delle soluzioni in accordo con le banche quindi era tutt'uno oggi invece noi ci troviamo ad avere a che fare con banche che vengono gestite da lontano soprattutto dall'Italia settentrionale che non hanno nessun interesse a preoccuparsi delle realtà del territorio questo fa sì che oggi andare in banca e chiedere un aiuto un finanziamento per una qualsiasi attività imprenditoriale la risposta è nì in banca se porti soldi ti accorgono con il caffè se vai a chiedere soldi cominciano a guardarti sorto prima ancora di capire chi sei avranno le loro ragioni ma non è un grande sistema però questo significa che si blocca l'economia evidentemente evidentemente sì più avanti parleremo nella seconda parte un attimo anche delle politiche a sostegno del lavoro e dell'impresa che tipo di riflesso hanno avuto anche in provincia di Avellino e segnatamente alle vostre attività imprenditoriali ci fermiamo per qualche secondo e riprendiamo tra poco concessionaria ufficiale Mercedes-Benz mano calzati nei pressi di Avellino Est di Avellino Est DAG Auto concessionaria ufficiale Mercedes-Benz mano calzati nei pressi di Avellino Est Siamo ritornati siamo ritornati nella pausa abbiamo continuato a parlare con i nostri ospiti per esempio di banche siamo con Carmine Marinelli del gruppo Marinelli con Giuseppe Zaolino segretario generale della Fismic e Gino Pedata che guida Soft Technology io concluderei però il discorso sulle banche che avevamo lasciato a conclusione della prima parte Zaolino e insomma il sistema bancario le banche non sono simpatiche da sempre spesso anche a torto non ci sono sempre ragioni per ritenere antipatiche cattive predatrici rapinatrici e quant'altro ancora le banche però insomma il sistema bancario nel mezzogiorno è un sistema che oggettivamente per come sta messo insomma aiuta nei limiti del possibile l'economia l'impresa il lavoro aiuta poco per la verità e quando aiuta il denaro costa almeno 4-5 punti in più se dipende dall'importo dipende dal soggetto che hai di fronte ma può arrivare anche a 10-15 punti in più rispetto al denaro che uno acquista a Milano a Torino a Firenze o altrove ma è uno dei problemi strutturali perché fare imprese al sud è già di per sé più complicato a complicare ancora di più la situazione nella gestione nella programmazione c'è questo scarso aiuto dal mondo del credito che per carità avranno tutte le loro buone ragioni perché anche sulle sofferenze bancarie il sud primeggia diciamo così ma è importante ma attenzione le sofferenze bancarie nel mezzogiorno sì ci sono quelli che che gli avventurieri se non addirittura i truffatori ma spesso queste sofferenze hanno origine anche da un contesto complessivo cioè imprenditori che per 30 anni si sono alzati alle 4 di mattina hanno sempre lavorato e poi come dire esplodono beh insomma quelle esplosioni quelle chiusure non sono diciamo così sì ci saranno anche mancanza di innovazione mancanza di visione mancanza di strategie ma insomma è il sistema che non ha aiutato molti imprenditori nel mezzogiorno su questo c'è poco e anche in provincia di Avellino quando bisogna sottolineare qual è la fotografia della realtà qui il su questo sistema del credito si sono scaricate una serie di contraddizioni che vanno anche dalla mancanza di una programmazione politica e quando il nostro tessuto economico produttivo occupazionale e industriale e commerciale noi storicamente siamo l'altra Italia dove è tutto più complicato in partenza poi la genialità degli imprenditori le parti sociali e quelle che io rappresento come cultura partecipativa cercano di dare una mano ma qui in partenza il sistema è molto più complicato poi la mancanza di una credibilità della rappresentanza politica ha fatto il resto il passaggio sulla politica lo dobbiamo fare Zavolino però il punto di domanda è che cosa facciamo adesso che siamo in una ripartenza nazionale e globale e quindi come agganciare il treno dello sviluppo partendo dai nostri guai strutturati questo è il punto di domanda io concluderei sulle banche con Gino Pedata a me molti anni fa il presidente della Banca Popolare dell'Irpina Ernesto Valentino diceva sempre le banche non sono istituti di beneficenza benissimo naturalmente non sono però ieri e soprattutto oggi alle banche si chiede anche un'altra cosa il dibattito è apertissimo ed è inconcluso da questo punto di vista Gino cioè le banche qualcosa devono rischiare allora per me le banche rappresentano un'altra imprenditura è chiaro che l'imprenditore valuta l'attività che va a svolgere se gli conviene avere o avere del rischio perché fa un'impresa lo stesso vale per la banca è chiaro che però l'accesso al credito come diceva prima Carmine Marinelli nasce dal fatto che qui c'è più difficoltà perché non abbiamo istituti locali anzi abbiamo perso quello anche l'unico che c'era prima ma ha ancora senso è senso perché conosci il territorio vedete che il problema non è più questo ma è quello il problema perché se oggi l'accesso al credito viene gestito tramite un rating quindi che non parte dalla storia dell'imprenditore quindi l'imprenditore che ha avuto o può avere una difficoltà Gino lei mi sta dicendo una banca che non ti guarda in faccia esatto sconfombe Carmine le politiche che sono state fatte anche per il mezzogiorno tra l'altro è nato un ministero è tornato un ministero non lo hanno chiamato ministero per il mezzogiorno perché se no avrebbe dato adito a vecchie polemiche molto infondate talune per la verità perché insomma finché hanno funzionato persino la cassa del mezzogiorno le cose insomma poi anche la cassa del mezzogiorno prese un'altra strada divenne il bancomat di tutta una serie di cose che sappiamo di politici amministratori partiti e quant'altro va bene comunque le politiche messe in campo il ministero per la coesione quindi il ministero per il mezzogiorno un segnale di attenzione a una parte del paese che comunque fa dei progressi oggettivamente però insomma le distanze restano abbastanza queste politiche nazionali per il mezzogiorno come le avete diciamo così digerite il job tax il credito d'imposta la discussione che pure si trascina da molti mesi se non anni il cuneo fiscale per rendere un po' più agevole il problema diciamo così la gestione di un imprenditore e la vita anche degli stessi lavoratori che tipo di influenza hanno avuto queste politiche nell'immediato la verità è una tutte queste politiche sono delle belle cose ottime ma valgono per le aziende che stanno correndo sono aziende che stanno facendo produzione fatturato quindi che arrivano queste agevolazioni anche il credito imposto oggi abbiamo il credito imposto anche io ho fatto delle pratiche anche abbastanza consistente ma perché i miei obiettivi e la mia strategia è molto più ampia sul territorio ma se ci riferiamo ad Avellino chi è l'imprenditore che deve acquistare delle attrezzature io parlo del campo edile non conosco bene quello industriale ma il campo edile lo conosco bene chi è che deve acquistare queste attrezzature se oggi non ha una strategia non ha una programmazione lo Stato se non fa tutt'uno quindi parte dal lavoro dal lavoro sul territorio chi ci deve pensare ci deve pensare il politico oggi noi abbiamo una fotografia il 2018 sarà un anno in cui la regione Campania ha stanziato un programma di investimenti di lavori pubblici abbastanza consistenti ma abbiamo 800 milioni a Salerno 400 a Napoli 30 milioni ad Avellino lei mi deve dire con 30 milioni di investimenti ad Avellino distribuiti su un territorio così ampio quali sono le aziende che potranno avere una strategia in questo senso io penso veramente poche qual è il credito di imposta che bisogna fare a quel punto lo Stato può anche dire guarda ti esonero dal pagamento dei contributi sarà una bella notizia ma per farci che cosa noi dobbiamo avere prima il lavoro e l'Irpini è stato un paese una zona della regione Campania che ha avuto una quantità di lavoro nel settore edile tale da far stare bene tutta la provincia oggi questo non c'è oggi bisogna essere concreti nelle cose noi oggi non abbiamo delle imprese chissà quante siamo diventati veramente pochi abbiamo sempre detto abbiamo ricordato il presidente Scognamillo per dire che insomma in Italia ma anche in provincia di Avellino una parte significativa molto consistente del PIL del prodotto interno lordo anche della nostra provincia beh schizzerebbe come è stato alto lo ricordava Carmine Marinelli negli anni scorsi se ci fossero politiche per esempio per il settore edile che è un settore trainante per l'economia mette in moto il mondo diciamo tutto il mondo perché questa cosa rientra così difficile anche alla luce dei numeri che Carmine ci ha ricordato a proposito dei lavori pubblici previsti nel 2018 rispetto a cui De Luca potrebbe dire vabbè ma la provincia di Avellino nel 2017 2016 abbiamo dato il completamento della Lioni Contorsi numeri che chiaramente si capisce l'alta capacità la centralità della regione Campania è diventato investire a Salerno perché 800 milioni e 30 milioni si leggono con questi numeri però mi posso anche leggere in un altro modo e cioè io che mi trovo in regione Campania e vedo che non ci sono una programmazione sono due le ipotesi o gli amministratori sul territorio sindaci la provincia i vari personali non hanno concretizzato niente oggi presentare un progetto significa avere una speranza non presentarlo significa che tu non hai nessuna speranza di successo oggi probabilmente la provincia di Salerno è vero che c'è il governatore che di Salerno e quindi favorisce quel territorio ma è pur vero che conoscendo il governatore il suo modo di ragionare io non ho mai sentito da lui non avallare un progetto valido la verità è che noi abbiamo una classe politica in questo momento non si capisce che cosa sta facendo ma questo vale anche per i fondi europei perché noi l'anno passato abbiamo rispedito al mittente un miliardo e 500 milioni di fondi per mancanza di progetti e quindi mandati indietro all'Europa però per ritornare all'Irpinia noi dobbiamo dire con franchezza che ci sono dei tentativi anche da parte del governo nazionale per esempio i 18 milioni di euro dati dal governo Gentiloni alla città capoluogo per recuperare le periferie però da quando c'è l'annuncio a quando aprono i cantieri passa un lasso di tempo che ovviamente per chi è pronto per gareggiare eccetera la scorsa settimana in occasione della inaugurazione dei primi 23 chilometri che servono anche ad alto dell'alta capacità tra Foggia e Benevento il tratto Bovino Cervaro proprio con il ministro del Rio il ministro del Rio è stato molto severo in Italia gli imprenditori dovrebbero avere più cultura dell'impresa che cultura del ricorso perché se poi l'ordinamento è codificato in questo modo e poi poi c'è la burocrazia poi ci sono altri ritardi e poi la porta surda i 120 milioni cominciamo a lavorare e si ferma dopo una settimana anche su questo però su questi argomenti giusto per interloquire ci sono fattori che possono anche nel coinvolgimento del mondo dell'edilizia a fianco diciamo proprio confinante con questo mondo c'è un'altra situazione che si sta mettendo in movimento cioè sulla programmazione c'è anche chi è già pronto per esempio sulla depurazione in Irpinia sono stati già protocollati a Napoli dei progetti cantierabili per 6 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico di tutti gli impianti di depurazione dell'Alto Irpinia e non solo e quella è un'altra goccia che va in una situazione in movimento però sono piccole cose però consiglio si parla di economia non possiamo ridurre l'economia soltanto al pubblico l'Italia è una nazione lunga e tortosa e ha bisogno che veramente si rifaccia impresa in settori che non devono nascere per forza dal pubblico a parer mio ma che devono far sì che in ogni territorio per le sue caratteristiche le sue peculiarità può fare impresa in Irpinia si dovrebbe fare impresa agroalimentare per fare dei percorsi turistici questo non è stato mai fatto è inutile venire a fare impresa ad Avellino se poi abbiamo tutti i problemi logistici problemi strutturali che fanno sì che io sono se io faccio un'azienda e devo trasportare da Avellino a Milano il mio costo di prodotto sarà sicuramente più alto rispetto a quello che sta a Milano per cui ha una viabilità che non esiste una serie di fattori negativi ma l'imprenditore del sud può guardare al suo territorio e capire che anche nel suo territorio si può fare impresa si fa impresa con dedizione non chiedendo sempre e soltanto alla politica che a parer mio la politica è espressione di mancanza di etica e morale dell'italiano in questo momento su questo io vorrei tornare in finale perché la politica non la voglio buttare in politica però quando i nostri ospiti dicono politica dicono le istituzioni rappresentative che responsabilmente leggono le questioni del paese del territorio e cercano di interpretarlo di dare traduzioni concrete attraverso questo o quell'intervento questa o quella misura questa o quella proposta di legge Zaolino ricordava questi 6 milioni per la demurazione io ricordo e speriamo che sia una pagina da chiudere in fretta in tutta Italia con la depurazione si sono fatti i soldi si facevano profitti in provincia di Avellino e parlo del nucleo industriale di Avellino hanno dovuto portare praticamente i libri in tribunale insomma perché insomma tutto si faceva forché depurazione mentre gli stessi soggetti pubblici in tutta Italia dalla depurazione hanno tratto larghissimi profitti speriamo che quella pagina nerissima non venga più riproposta ai contemporanei e ai posteri la politica dunque la politica intesa come abbiamo cercato sinteticamente anche un po' brutalmente di spiegarla prima ripartirei da Gino insomma e saranno le leggi elettorali il parlamentare non è non ha più interesse a seguire il territorio spesso perché tanto o lo segue o non lo segue se lo candidano nel destino bloccato quello esce e buonanotte al secchio e poi vediamo se possiamo perché il distacco come lo valutate questo distacco ma perché c'è un distacco che cosa consisterebbe secondo voi c'è un distacco della politica dal territorio che nasce dal fatto che come lei prima diceva la legge elettorale fa sì che la territorialità del politico non ha più la stessa valenza rispetto ad anni passati quindi diciamo che forse stiamo avendo un po' nostalgie del vecchio rispetto al nuovo che si è generato un nuovo che doveva essere l'innovazione e che a parer mio non lo è stato quindi ora c'è necessità di un cambiamento vero il cambiamento però nasce fondamentalmente prima dal cittadino cioè il cittadino non può limitarsi solo a chiedere io dico che dobbiamo ragionare con meritocrazia quindi ottenere ciò che è giusto che ognuno di per sé l'imprenditore il dipendente il sindacalista il politico abbia ma in funzione di quello che realmente rappresenta all'interno della cultura italiana una meritocrazia credo di interpretare l'opinione di Gino Pedano una meritocrazia temperata dalla solidarietà sicuramente mica tutti siamo bravi io per esempio sono asinello no no assolutamente la solidarietà è fondamentale anche l'imprenditore deve sempre guardare nel sociale il problema è di non mettere gli asinelli in testa magari questo sì questo sì la politica Carmine Marinelli insomma da molti anni non scegliamo più praticamente e quindi anche questo alimenta per un verso un po' quel sentimento di antipatia se non proprio di schifo che molti hanno io credo a torto nei confronti della politica perché insomma non scegliamo più non è vero che non scegliamo noi abbiamo fatto le elezioni regionali dove presumo io parlavo di Camera e Senato ma io penso che oggi il territorio viene governato soprattutto dalla regione Campania dalla regione poi il governo insomma il Parlamento fa le leggi nazionali e poi le varie regioni sono le applicano ma in realtà oggi il governo del territorio lo fa la regione Campania probabilmente il politico che ha la fortuna di andare a rappresentare l'Irpinia o una qualsiasi provincia in consiglio regionale probabilmente si dovrebbe adoperare di più perché la politica è come il politico è come l'imprenditore non tutti siamo uguali chi sceglie questa strada probabilmente si deve adoperare e deve creare delle giuste motivazioni una strategia di come portare ricchezza al territorio ecco lei Carmine che tipo di come dire non richiesta perché io condivido molto le cose cioè basta chiedere diciamo le cose come dovrebbero essere noi non abbiamo mai chiesto niente cioè l'imprenditore che sa fare il proprio mestiere che si aspetta non ha la necessità di chiedere dalla politica in questo caso dalla regione lei che si aspetta non è che abbiamo bisogno di avere l'infinanziamento pubblico noi abbiamo bisogno di avere lavoro noi viviamo di lavoro queste le nostre aziende hanno bisogno di programmazione sapere che cosa bisogna fare domani se su un territorio non c'è nulla e parlo del settore edile perché chiaramente è quello che conosco bene e con cui dove lavoro quotidianamente ma se la politica non porta lavoro sarà un piano regolatore sarà un'opera pubblica sarà una qualsiasi cosa è chiaro che non si va da nessuna parte oggi noi abbiamo tante cose ma mancano tante altre cose siamo legati a vecchie a vecchie situazioni che la politica solo può modificare e chi le può fare chi in seno del consiglio regionale che fanno le leggi oggi la regione Campania è un organismo fondamentale è decisivo è decisivo loro fanno le regole fanno le leggi sono in grado di poter modificare delle cose e quindi chi detta le regole può soltanto cambiare questo tipo di regole vediamo invece non la politica perché sarebbe troppo comodo per Zaolino dire le cose che non vanno rispetto a... che cosa deve fare il sindacato che anche il sindacato non è che goda di buonissima stampa Zaolino no? che deve fare il sindacato io credo leggevo per esempio la Furlan ieri l'altro ieri insomma stati generali del mezzogiorno un patto tra tutti i protagonisti cose che abbiamo sentito per la verità insomma non so proprio novità dell'ultima ora ma in che cosa deve cambiare secondo lei il sindacato intanto da che cosa deve emendarsi mettiamola così intanto deve ripartire dalla credibilità perché se noi oggi il sistema della rappresentanza politica e quella sociale che rappresenta il sindacato ha perso quella pille iniziale che è dettata dalla credibilità di sistema quando un sindacato nazionale confederale locale prende in carico un'avvertenza e non riesce a chiuderla in positivo è un sindacato che non serve più se la politica non dà risposte al territorio per lo sviluppo quella politica non è più credibile allora dal mio punto di vista oggi si salvano i singoli nelle varie situazioni e chi ha della credibilità a livello personale individuale noi ripartiamo da lì perché giustamente come diceva lei la questione non sono situazioni di ammucchiata di cose già vecchie che si ripropongono qui la regione campania e l'irpinia deve ripartire da cose che sono già subito cantierabili ma se il sindacato nazionale e parlo di quello confederale perché poi il mio mondo degli autonomi ha anche al suo interno delle cose che deve mettere in chiaro il sindacato nazionale è diviso fa finta di essere unito non ha un progetto che parte anche dalla riorganizzazione statutaria perché la credibilità viene data dalla base alle persone che vengono certe e trasparente ma mettere ancora soggetti che non sono rappresentativi come diceva lei che sicuramente ti scavalcano senza essere delle persone rappresentative abbiamo capito la centralità è il recupero della credibilità non mi ha convinto adesso io lo faccio dire da Gino Pedate e da Carmine ma io non volevo convincere lei ma l'opinione pubblica che cosa il sindacato non deve più fare che vi ha annoiato vi ha annoiato nel senso che che pone problemi che non andrebbero posti o andrebbero posti diversamente ma il problema è che il sindacato molto spesso per questioni di opportunità politica la definirei così rieccola fa una difesa massificata il sindacato deve chiedere all'imprenditore che siano premiate le caratteristiche di ogni singolo lavoratore e deve dare all'imprenditore l'opportunità di considerare quel lavoratore che non fa il proprio dovere un elemento che va redarguito il sindacato questo non lo consente perché il sindacato massifica per proprio interesse Carmine non dico quattro ma glieni dica due Zeolino io sono vivendo il mondo dell'edilizia dico che il sindacato cerca di fare quello che può ma il problema qual è? che in un settore dove esistono mille problemi dove il costo del lavoro è molto alto chiaramente l'imprenditore ha mille difficoltà le aziende oggi vanno in crisi il sindacato arriva e cerca di risolvere il problema ma in che modo? la cassa integrazione noi siamo abituati ormai ad un percorso che non risolve il problema mette un tampone una toppa e siamo abituati ormai ci siamo specializzati facciamo di tutto ci siamo inventati tutto quindi la verità è che il sindacato fa un lavoro che è quello che deve fare ma non può fare altrimenti perché a noi serve un'altra cosa noi per stare bene dobbiamo lavorare lavorare se non c'è il lavoro ognuno di noi fa il proprio gioco torniamo in capo a 12 va bene io sono davvero è stata una discussione che mi è sembrata molto interessante penso per le cose che ci siamo detti insomma l'abbiamo già detto in altri occhi che gli imprenditori parliamo di soft technology del gruppo Marinelli ma di tanti altri imprenditori e imprese che sono autorevolissime qualificatissime hanno sede in questa provincia che sono dirette da uomini e donne di questa provincia di farsi sentire più spesso non solo in televisione io penso proprio sulla base del ragionamento che faceva Gino Pedata che non è più il problema di chiedere il problema è di assumere appunto una posizione perché altrimenti insomma voi avete tutti i numeri tutte le carte in regola per farlo una vostra presenza nel dibattito più complessivo di questa provincia e non solo io credo che aiuti molto e potrebbe aiutare Gino mi pare certamente però come diceva prima Carmen bisogna lavorare quindi comprenda un attimo le difficoltà di essere più presenti perché se già le altre problematiche sono tante non ci consentono di avere il tempo da dedicare alla spinta verso innovazione da parte degli organi competenti molto spesso siamo relegati nelle nostre aziende alla soluzione dei problemi piuttosto che forse vedere con occhio più tranquillo e dare la nostra idea a una possibile soluzione Noi auguriamo che la voce delle imprese le imprese autorevoli serie importanti che rispettano le regole che stanno dentro le regole che chiedono che altri livelli applichino e rispettino le regole che attengono a quel mondo io penso che sia importante questo contributo insomma se lo parliamo sempre noi parla Zaolino parla Vitale parla un altro insomma abbiamo bisogno di un coro più vasto mettiamola così un potere contrattuale visibilità lo spenda per far aiutare il sistema a una rigenerazione della rappresentanza questo è il tema noi ci fermiamo qui il nostro tempo è scaduto devo darvi una notizia una notizia un fuorisacco come si dice in gergo Zaolino il giorno in cui si è sposato parecchi lustri fa devo ritenere ha passato la prima notte di nozze al Lloyd Baia Hotel di Salerno che è di proprietà appunto del gruppo Marinelli ecco Marinelli è stato piacevole dobbiamo ritenere ho ancora un ottimo ricordo benissimo non so sua moglie penso di sì devo riconvenire che questo riguardi anche sua moglie grazie davvero a Carmine Marinelli a Giuseppe Zaolino e a Gino Pedata grazie ad Alfonso Tarantino che ha guidato le telecamere dello studio e grazie a Emanuele Angheloni in regia grazie soprattutto a voi che avete voluto seguirci anche questa settimana buon fine settimana a tutti voi con Tempo Reale arrivederci DAG Auto concessionaria ufficiale Mercedes-Benz manocalzati nei pressi di Avellino Est di Avellino in regia di Avellino a B